No, io sono andato nell'orco a zappare, a mettere le patate. E beh, hai sempre preso il sole, la vitamina D te la sei beccata. No, no, le patate, le batate. Ah, le batate, già, già, le batate. Anna, la pronuncia giusta era le batate, Anna? Batate. Batate. No, badate. Come i bimbi con il mio nipote. Sì. Ok, allora dai, cominciamo, perché sennò il tempo passa velocemente. Allora, facciamo la terza lezione, impariamo da Mosè. Abbiamo sentito Monica, la prima lezione, Anna, la seconda lezione. Adesso sentiamo Laura, Laura Belia, che ormai non ci parlerà più di alimentazione, quindi ciò che è fatto è fatto. Non potrei mai. Però, visto che il titolo è il corpo e la mente come tempio, ci parlerà anche di cose più profonde, legate alla nostra sfera psichica, agli aspetti cognitivi, va bene, non usiamo parole complesse. Comunque, il tema sarà quello che è pertinente alle sue competenze, quindi la psicologia. abbiamo detto che Dio ci ama, ci ama, ama anche il fatto che noi, e desidera che noi stiamo in buona salute, per quello abbiamo parlato di alimentazione o di cura attraverso la natura, per esempio, Anna ci ha spiegato un po' di cose, anche se con una lezione non è stato sufficiente, ma se Dio vuole proseguiremo. E quindi Dio ci ama nel nostro intero essere, così come ha citato anche Marco Distort nello scorso corso. Quindi questa sera vogliamo affrontare anche questa parte molto complessa che riguarda la nostra sfera delle emozioni, i sentimenti, la nostra psiche in generale, perché sarebbe molto utile che tutti noi capissimo, per quanto ci è possibile, come funziona la mente, no? Anche per poterla mettere al servizio del nostro Signore, sottoponendola allo spirito. Comunque, detto questo, io chiedo magari a Gualtiero che questa volta spazio agli uomini per fare una preghiera a Gualtiero, così poi cominciamo e vi presento Laura. Sì, Padre Celeste, è sempre un onore venire ai piedi del tuo trono di grazia per presentarti il nostro operato, Signore. Crediamo che a te piaccia tutto ciò che stiamo facendo, ma noi ci aspettiamo molto da te, Padre, perché tutto ciò che noi facciamo lo basiamo sulla tua scrittura, su quello che tu ci hai voluto trasmettere in tutto questo tempo, Signore, e vogliamo confidare in te, perché tu possa benedire questa serata, come del resto hai sempre fatto, Signore. Ci aspettiamo grandi cose, Signore, e chiediamo la tua benedizione per la Relatrice, Signore, che ci presenterà sul programma in accordo alla tua parola. Ti ringraziamo nel nome santo di Gesù. Amen. Grazie, Gualtiero. Allora, due parole solo su Laura. Laura Bellia o Bellia? Laura Bellia? Provaci, dillo ancora una volta e tolgo il collegamento. Laura, la dottoressa, si è formata all'Università di Torino, questa Laura è in psicologia, con un professore che alcuni di noi conoscono, Rocco Quaglia, che è un grande professore, diciamo che ha portato la parola di Dio anche in ambienti difficili. E Laura è il frutto anche di questa semina che ha fatto questo professore Rocco Quaglia. Quindi Laura esercita questa attività da diversi anni, ma è anche al servizio delle chiese, io stessa l'ho sentita più volte, con l'attività di seminari, conferenze, su alcuni temi particolari, e anche la famiglia, per esempio, è uno di questi. È una persona molto rigida, fate attenzione, lei è molto formale, eh? Vi bacchetta, non è vero, tutto il contrario, possiamo stare tranquilli, non è vero questa cosa che gli psicologi... Soprattutto leggo nella mente, quindi mi interpreto le microespressioni. Lo stavo dicendo io, sì. Adesso come fai a guardarci? La postura non ce la vedi. Eh, però ci sono le microespressioni, non l'avete vista quella serie Light to me, con Carl Leitman, no? Che coglieva tutte le micro-espressioni, interessantissima, molto bella. Quindi, diciamo lo stesso. A te la parola, Laura. Quindi la lezione è Impariamo da Mosè. Vi ricordo che sarà registrata, comunque se volete poi riascoltarla, però grazie. Grazie, grazie Laura, che ha dovuto fare anche lei, vi svelo un piccolo segreto internos, ha dovuto fare lei anche, anche lei uno sforzo per essere qua stasera, perché non è facile insegnare dietro uno schermo, per cui, diciamo, per noi è un po' più facile, perché ascoltiamo, facciamo degli appunti, però per chi deve insegnare effettivamente è una sfida nuova. È una cosa diversa. Ecco, grazie Laura, benvenuta. Grazie a Gesù, grazie a te, grazie a voi. Non ti mancherebbe. Hai parlato di me, ma quello che è importante è il mio maestro, non sono il nostro maestro. Non sono certamente io, non ho niente di particolare da condividere su di me. Hai già detto tutto quello che poteva essere un'informazione generale. L'unica cosa che posso aggiungere è che mai nella vita mi sarei aspettata di fare lo psicologo, tanto meno di fare lo psicologo cristiano. Le mie idee erano proprio tutte da un'altra parte. Però, come sempre, Gesù sa quali sono le cose giuste, i momenti giusti, cambia radicalmente la nostra vita, se glielo permettiamo. E così, per una serie di vicende che vi risparmio, mi sono trovata appunto a studiare psicologia, ma soprattutto a consacrare la laurea in psicologia a Gesù, e non la uso fuori dal contesto cristiano, perché non credo nella psicologia laica. Credo che sia un'ottima stampella, credo che sia un ottimo strumento che può essere utilizzato per accompagnare una persona, sicuramente sì, ma non la soluzione. La soluzione è sicuramente sempre e solo l'incontro con Gesù. Io ho notato, tante volte, nei libri di psicologia laica, che ci sono dei riferimenti alla parola di Dio, perché comunque, che ci piaccia o no, i cieli e la terra passeranno, ma la mia parola non passerà mai. Quindi, anche le persone che magari ostentano la loro laicità, il loro disinteresse verso Dio, però poi alla fine delle citazioni e dei riferimenti in qualche modo li fanno. Quello che non condivido in questo senso è il fatto che usano delle parti della parola di Dio, dei versetti, delle situazioni così, per avallare le loro teorie. Mentre io invece credo che dovremmo fare esattamente il contrario, cioè trovare nella Bibbia la risposta alle nostre situazioni, alle nostre difficoltà, trovare la spiegazione, il perché del nostro malessere, delle nostre difficoltà, delle sfide che affrontiamo. Non cercare di trovare una spiegazione laica e poi magari confermare questa spiegazione laica con parte della parola di Dio. Perché la parola di Dio non si presta a essere semplicemente uno strumento da usare così, quasi come frase scaramantica, piuttosto che come rimedio alla veloce all'ultimo momento. La parola di Dio è quello che dà vita, è quella che dà vita, è quella che dà nuova vita, è quella che separa l'anima dallo spirito e quindi separa la parte umana con tutte le sue difficoltà, con tutte le sue sfide, dalla parte spirituale che invece è già felicemente seduta nei luoghi celesti in Cristo, dove aspetta che il resto della nostra persona la raggiunga nelle modalità che Dio solo conosce e sa e non mi infilo in niente di dottrinale, di teologico perché non ho le competenze e questa non è la sede. Questo preambolo per spiegarvi perché ho pensato a questo tipo di approccio anche questa sera, di analisi, non prendere, che ne so, la difficoltà come gestire il covid piuttosto che la depressione da covid, da perdita di lavoro, cose del genere, perché credo che siamo già abbastanza intasati sui media di tutti questi insegnamenti, queste condivisioni, eccetera, eccetera. Io credo invece che sia molto più opportuno guardare le nostre difficoltà alla luce della parola di Dio e soprattutto vedere come un personaggio che ha avuto un sacco di guai nella vita è riuscito bene, è riuscito vincitore, se vogliamo, sulle sue difficoltà, anche se non è arrivato al traguardo che Dio aveva preparato per lui, perlomeno parlando in termini umani terreni, però è riuscito a farlo grazie a una decisione che a un certo punto credo abbia preso. Quindi impariamo da Mosè perché abbiamo qualcosa da imparare. Intanto credo che nessuno, Dio non chieda a nessuno di noi di accompagnare il popolo di Israele da qualche parte, quindi rilassiamoci, ma noi che dobbiamo imparare da Mosè per imitare lui, casomai possiamo pregare perché raggiunga il posto giusto però spiritualmente, ma non è questo quello che il Signore si aspetta da noi, si aspetta però davvero un comportamento, una presa di posizione a un certo punto della nostra storia simile a quella che ha preso Mosè, che nasce, poveraccio, in un periodo in cui non è che le cose andassero così bene per il popolo di Israele, perché se vi ricordate, potete andarlo benissimo a leggere o a ripassare o a rinfrescare dall'Esodo al Deuteronomio, direi che c'è una storia ben lunga, ben diffusa e dettagliata, però lui nasce in un momento storico in cui il popolo di Israele era perseguitato e viveva in Egitto oppresso. Oltretutto questa oppressione si era fatta via via più dura fino alla decisione del faraone o di chi per lui di uccidere, di far uccidere tutti i figli maschi che venissero al mondo tra gli schiavi ebrei. Allora, tutti sappiamo anche soltanto per la psicologia selvaggia che leggiamo sulle riviste che una donna già in stato di gravidanza comunica con il suo feto, con il suo bambino le sue emozioni, i suoi stati d'animo, la sua ansia, la sua paura piuttosto che la sua gioia, la sua allegria, la sua positività a seconda di quello che sta vivendo. quindi anche se non sono ancora stati fatti studi specifici, dettagliati che portino proprio delle prove pratiche su questo, però la psicologia di tutte le correnti di cui possiamo parlare è orientata in questa direzione. Già in gravidanza il bambino, il feto, sente, capta e riceve le emozioni della mamma. Ora, vi potete immaginare come può stare una mamma incinta, felice da una parte di aspettare un bimbo, preoccupata dall'altra che il bimbo sia un maschio. Quindi, cosa può trasmettere a questo bambino? Un miscuglio di emozioni tra la gioia, quindi l'accoglienza, il pensiero pieno d'amore, di benvenuto per questo bambino che ci sarà e al tempo stesso la preoccupazione speriamo che non sia un maschio, speriamo che non sia un maschietto. E cosa succede per la legge di Murphy? Che è un maschio. È un maschio e quindi con la sua nascita, con il suo genere, lui determina la sua condanna a morte senza saperlo, ignaro di tutto quello che gli sarebbe potuto toccare, in sorte però determina la sua condanna a morte perché non era possibile, come ho detto prima, risparmiare i maschi del popolo ebraico. I suoi genitori decidono però è bello, è carino quello che descrive la Bibbia, no? Siccome lui era bello, io non credo che si riferisse soltanto a un discorso fisico, io credo che questa bellezza fosse la bellezza di un bambino visto attraverso gli occhi della mamma, che dicono a Napoli, ecco, io non lo so se lui era uno scarrafone o se era veramente una bella persona, però di fatto sicuramente agli occhi della mamma e del papà era bello questo bambino quindi non hanno avuto cuore di denunciare la sua nascita e hanno pensato, cercato un qualche modo per salvargli la vita, però in che modo? Prendendo questo bambino dal grembo della mamma, io non lo so dopo quanti giorni, dopo quante settimane, non lo ricordo, non so niente se fosse precisato o meno, quindi togliendo il bambino da questa condizione di tranquillità, di accoglienza, di accudimento, di amore, di benessere per metterlo dentro un cesto di vimini, di paglia, di quello che sarà stato, non lo so, coibentato all'interno e mi immagino chiuso perché se no poteva entrare l'acqua. Quindi pensiamo un po' a questo neonato, a quello che può sviluppare come prime emozioni, come prime esperienze della sua vita da uno stato di benessere, di fiducia totale, fiducia classica di un neonato, di un bambino, totale nella presenza della mamma, nell'amore della mamma, nell'accudimento e nella sicurezza che deriva dalla relazione con la sua mamma con cui per tutto un primo tempo della vita un neonato pensa di essere un tutt'uno, sappiamo che soltanto in un secondo tempo un bambino si separerà, si identificherà come persona sestante ma tutto il primo periodo nel pensiero onnipotente del neonato c'è questa convinzione io grido e automaticamente mi arriva al seno come se fosse una cosa mia, no? Ovvio che è inconscio questo, non è che il bambino fa questo ragionamento però la psicologia è convinta di questa cosa quindi questo bambino che ancora probabilmente in una fase del genere, in una condizione del genere di punto in bianco si trova cacciato dentro una cesta al buio una cesta rubida che non ha né il calore né il come dire la morbidezza né l'odore della sua mamma e questa cesta oltretutto non è stabile perché ondeggia galleggia sembrano sfumature sembrano stupidaggini per noi che non siamo dei neonati che sappiamo come è andata a finire la storia però pensiamo a che cosa ha vissuto Mosè che cosa che emozione che sentimento ma soprattutto che emozione di paura di smarrimento di disorientamento non riconosceva niente di quello che gli poteva essere familiare come se non bastasse mentre era lì che galleggiava in questa cosa buia e rigida viene disturbato sappiamo quanto i neonati sono sensibili ai rumori alla luce al rumore e viene disturbato mi immagino questo non è scritto sulla Bibbia quindi questa è una libera interpretazione di Laura ma dai gridolini dalle esclamazioni delle ancelle della figlia del faraone che avevano trovato questo cesto galleggiante così magari avevano tra i canneti nel canneto e avevano scoperchiato questo cesto avevano visto che dentro c'era un neonato sapete un gruppo di fanciulle davanti a un neonato quanto chiasso riesce a fare avete presente che carino che tesoro amore quindi lo pacciocco di qua lo pacciocco di laloto questo poveraccio che ancora non aveva capito dove poteva trovarsi per noi può essere anche un'espressione piacevole di affetto di tenerezza che esterniamo verso un bambino ma per lui che era in quella condizione può essere stato un come dire un aggravamento della sua insicurezza della sua incertezza della sua paura che è una delle emozioni primarie appunto comunque questo bimbo preso in braccio da qualcuno così viene portato alla figlia del faraone che desidera adottarlo però non essendo lei mamma non avendo lei latte l'incarica la sorella questa storia la sappiamo tutti la sorella di Mosè di andare a cercare una nutrice lei sicuramente spinta dallo spirito santo chiama la sua mamma chiama la mamma naturale quindi questo bambino ritorna al calore al tepore alla tenerezza all'odore conosciuti della mamma cosa può avere sviluppato ipoteticamente nel frattempo un pensiero un'idea le cose belle le sicurezze sono precarie mamma c'è poi mamma sparisce adesso sono qua coccolato tra le sue braccia lei mi allatta lei parla con me riconosco la sua voce riconosco il suo profumo ma poi mamma sparisce perché viene questa ragazza la figlia del faraone mi prende in braccio mi immagino io qualche volta mi porta con sé e quindi non proprio come dire l'ideale per per un esordio alla vita più passa il tempo più passano gli anni o magari sì io direi a questo punto però gli anni più altre persone si aggiungono alla mamma e progressivamente la sostituiscono nell'educazione del piccolo o del giovane Mosè in che modo? in una maniera piuttosto difficile per lui perché? perché sono egiziani e quindi parlano un'altra lingua hanno altre abitudini hanno anche abitudini alimentari diverse hanno tradizioni diverse io non lo so certamente il modo di porsi con un bambino più o meno è simile in tutte le razze del mondo dovunque ma con un giovane con un adolescente con un ragazzo che cresce alla corte del faraone che è una corte in cui si cresce per diventare comunque guerrieri soldati per proteggere l'integrità del faraone la salute l'incolumità del faraone ma anche per essere pronti a combattere contro i popoli stranieri un tipo di educazione forse più spartano in questo senso per fare di Mosè un soldato una persona forte ma al tempo stesso come è scritto era scritto prima nei capitoli precedenti c'era questo contatto con questa mamma che raccontava a Mosè delle cose diverse da quelle che gli raccontavano i suoi precettori i suoi precettori mi immagino che gli insegnassero come diventare un buon egiziano quindi i valori della cultura egiziana i principi da rispettare le tradizioni la cultura eccetera la mamma il fratello Aronne fratello maggiore la sorella se avevano opportunità di incontrare lui di incontrare Mosè di passare del tempo con lui sicuramente gli raccontavano invece delle sue origini gli raccontavano la storia del popolo gli parlavano a mano a mano che cresceva che potevano fare con lui dei discorsi più maturi parlavano con lui dell'oppressione della sofferenza di questo popolo ora noi sentiamo tanto parlare sono convinta che tutti abbiamo qualche persona che ha avuto questo tipo di problema se non siamo noi stessi ad averlo problemi di identità no? in realtà io chi sono? qual è il mio scopo? perché sono qui? sapete quelle famose domande che ci si fa a un certo punto nella vita quando si comincia a capire appunto che tutte le cose non sono così facilmente date per scontate che bisogna comunque conquistarsele o capire come muoversi o che cosa fare Mosè si trova tirato da due lati da due richieste contradditorie da una richiesta probabilmente anche implicite magari espresse verbalmente perlomeno la Bibbia non ne parla però da una parte c'è la richiesta o l'aspettativa degli egiziani della corte del faraone della figlia del faraone di fare di questo ragazzo un guerriero un soldato un uomo forte a difesa del papà a difesa del regno non lo so dall'altra parte c'è l'aspettativa di mamma forse un po' più verbalizzata un po' più espressa chiaramente di fare di lui uno del loro popolo uno del suo popolo quindi un giudeo e quindi magari visto che sei alla corte del faraone prova a parlare con lui della nostra situazione chi lo sa sono tutte ipotesi però quello che mi preme sottolineare non è tanto il dialogo che può esserci stato che ce lo possiamo inventare noi ma non ci porta da nessuna parte quanto il vissuto di questo ragazzo che come tutti noi aveva bisogno di interiorizzare un senso di appartenenza sapete che questo è uno dei dei bisogni fondamentali dell'essere umano sapere di avere una direzione in cui andare e una direzione da cui si proviene da cui proveniamo una nostra storia scritta quindi il nostro passato chiaro nel bene nel male con le esperienze positive o negative però un senso di appartenenza io vengo da lì è un progetto io vado là vado in quella direzione Mosè non è esente da questo tipo di bisogno di necessità e cosa fa? fa quello che lui sul momento pensa che possa dargli una conferma una una garanzia di appartenere a uno dei due popoli cioè vede due un egiziano che per quote un giudeo desiderando aderire alla tribù dei suoi padri quindi dei giudei uccide questo egiziano con delle aspettative con un senso di giustizia per distorto che fosse però un senso di giustizia suo ma con delle aspettative implicite che ci possiamo immaginare che sono quelle di sentirsi dire grazie a fine dei nostri uno dei nostri lui ci ha difeso grazie Mosè non lo so quant'altro immaginatevi voi pensate un po' provate a mettervi nei suoi panni e immaginare come avreste potuto sentirvi e che cosa avreste voluto sentirvi dire per confermare a voi stessi la vostra storia originale la vostra appartenenza la vostra origine cosa succede che il giorno dopo di nuovo Zelante cerca di intervenire per sedare una discussione tra due giudei e anziché questi due giudei ascoltare quello che diceva anche ricordandosi del suo intervento il giorno prima così lo accusano di omicidio cosa vuoi fare vuoi ammazzare anche noi come è ammazzato l'egiziano ieri quale può essere stato il vissuto di Mosè adesso parlate voi però quale può essere stato il vissuto di Mosè concetta sta manovrando il microfono ti capisco concetta io sono tecnologica quanto te infatti non mi muovo non faccio nessun momento ma ho dei problemi io allora io penso che fosse capitato a me io avrei avuto un attimo di sgomento come per dire non credo a quello che sento non lo so perché se mi ero preparata una domanda una risposta come hai detto te prima sentirmi tutto l'opposto sono anche incredula a capire che ho capito bene cioè mi sarei sentita così io poi grazie è un'ipotesi tanto qua facciamo fantabibbia fantapsicologia ma ci sono dei motivi non distorciamo la parola di Dio ovviamente cerchiamo solo di calarci di più nel contesto cercando anche forse in questo sì se lo volete per mia deviazione professionale di vedere i personaggi anche appunto in chiave dei loro vissuti dei loro stati d'animo perché non è pensabile che fossero dei supereroi se no Dio non li avrebbe fatti scrivere lì perché se no ci avrebbe mandato in crisi avrebbe mandato in crisi ogni lettore della Bibbia non ce la farò mai non potrò mai raggiungere questo livello noi invece erano tutte persone con i nostri stessi sentimenti per questo mi sento autorizzata a ipotizzare quelli che grosso modo sono gli stati d'animo delle persone in contesti del genere quindi dice Concetta mi sarei sentita sbigottita non mi sarei aspettata una cosa del genere ma come io che già mi immaginavo Mosè si è vero hai ragione ascolta quello che dice Mosè invece che vuoi tu questo che vuoi tu che potrebbe aver avuto anche un senso di frustrazione di rigetto visto che lui aveva questa aspettativa formulando adesso questo tipo di ipotesi è proprio un senso di rigetto perché dalle persone che avresti voluto ti saresti aspettato una gratificazione o un riconoscimento ti vedi rigettato esatto anche quello è un'ipotesi è vero però è un'ipotesi che si fonda sul fatto che ogni essere umano ha bisogno di sperimentare accettazione e accoglienza ogni persona che non ha potuto sperimentare queste cose sviluppa progressivamente dei comportamenti distorti finalizzati per esempio a suscitare negli altri questo tipo di comunicazione di messaggio quindi una persona che si sente rigettata che si sente respinta immarginata può avere tutta una gamma di comportamenti e non staremmo qua a elencarli però tendenzialmente due grosse fasce linee di comportamento l'una aperta verso l'esterno e l'altra invece verso l'interno cioè una persona può chiudersi totalmente convincersi quindi di essere insignificante di non avere valore per nessuno e non trovare in sé quindi le risorse per reagire a questa condizione oppure può diventare seduttiva e quindi cercare in tutti i modi di accattivarsi gli apprezzamenti i ringraziamenti la simpatia l'affetto delle persone quelle persone che sicuramente avrete incontrato anche voi da qualche parte che sono sempre disponibili che dicono sempre di sì che sono sempre gentili ma che poi chiedono un feedback va bene sei contento così forse perché sono sempre cose da verificare forse ha bisogno di conferme ha bisogno di sentirsi importante per qualcuno bisogno di sapere che riesce a fare stare bene qualcuno e che quindi c'è qualcuno che lo apprezza e che lo ricerca che sta bene in sua compagnia quindi sentirti dire invece ma che vuoi dalla mia vita rinforza in Mosè un'insicurezza che noi troveremo poi più avanti e adesso tra un po' arriveremo anche a quello purtroppo Mosè ha vissuto un sacco di anni quindi vi tocca ragazzi mi spiace se tanto Gesù era più semplice viveva trenta e pochi anni non lo so però Gesù non aveva proprio niente da analizzare perché lui direi che è la perfezione anzi senza direi è la perfezione assoluta quindi questa cosa rinforza in Mosè un messaggio di rifiuto e di disinteresse che lo fa fuggire è vero che è riportato nella parola di Dio che lui fugge perché oggettivamente ha paura anche di essere arrestato di essere punito ucciso dagli egiziani visto che ne aveva ucciso uno dei loro però lui fugge anche da un contesto in cui aveva capito che non aveva più spazio perché ovviamente non poteva più integrarsi nel popolo egiziano non è che poteva tornare dal faraone e dire dai accogli mi scherzavo mi è scappato il pugnale scusa me l'ho strangolato così non mi sono accorto non funzionava così all'epoca non funziona così nemmeno adesso figuratevi allora no che non poteva assolutamente più pensare sperare di integrarsi con queste persone con questo popolo con questa famiglia soprattutto che pure aveva preso cura di lui per un lungo periodo della vita ma non poteva neanche integrarsi nel popolo ebraico nel popolo giudaico perché era stato respinto era stato rifiutato da queste persone e quindi che cosa qual è il suo ragionamento se lo sanno loro lo sanno tutti se lo sanno tutti chi mi garantisce che nessuno vada a fare la spia dagli egiziani giusto per farsi bello quindi magari metto a repentaglio anche la sicurezza di mamma dei miei fratelli e quindi scappa scappa e si ritrova di nuovo in una condizione di precarietà adesso pensiamo a un altro vissuto sempre pensando ai nostri vissuti a quello che noi o le persone intorno a noi possono vivere sperimentare o avere sperimentato lui esce dalla corte del faraone quindi mi immagino che fosse un posto dove comunque c'era un certo stile di vita servitori anche per lui gente che lo riveriva e comunque un ambiente in cui non mancava nulla né come cibo né come abbigliamento come benessere dove c'era comunque per lui un progetto di carriera forse come suddito del faraone sicuramente ma anche come figlio adottivo della figlia quindi una cosa un po' strana comunque benessere garantito da un punto di vista materiale si ritrova nel deserto dove ci sta un tot vabbè che lì vivevano campavano un sacco di anni però provare per credere chi è stato in Israele e ha visto qualche deserto di Israele non è esattamente un posto dove uno pensi di passarci più di qualche ora possibilmente anche se buca una gomma al pulmino che ci porta speriamo che venga riparata in fretta si ritrova lì dove le uniche persone che lo accolgono senza difficoltà sono le sette figlie di un tale ietro così che lui difende a un pozzo dalle prevaricazioni dei pastori quindi queste ragazze lo accolgono in casa e lui addirittura si sposa con una di loro quindi apparentemente finalmente c'è un'integrazione no? finalmente in qualche modo ho trovato la mia collocazione stima dove? qui non siamo più né egiziani né ebrei qui siamo madianiti altro popolo altra lingua altra cultura altro cibo siamo madianiti noi nello specifico Mosè e la sua moglie e comunque la famiglia della moglie che non dobbiamo nemmeno una stabilità per quanto riguarda l'abitazione perché siamo pastori nomadi quindi di nuovo se io ho bisogno di stabilità ho bisogno di mettere radici e credetemi l'essere umano ne ha bisogno più di qualunque altra cosa bisogno che non vuol dire che una persona non lo so penso ai missionari itineranti piuttosto che non vuol dire che se non ho un tetto sulla testa non posso avere il mio equilibrio però vuol dire che quella è una scelta mia che io ho fatto consapevolmente e quindi questo bisogno di radici eccetera l'ho già soddisfatto con altre modalità che non stiamo ad analizzare adesso perché non ci interessa ma Mosè era in fuga Mosè che arriva dalla corte del faraone si trova a fare il pastore di pecore e di capre quindi tutti sui bei vestiti eventualmente profumati di incenso e di altri oli vari immaginatevi un po' di che cosa possono profumare allevando pecore e capre non penso che sia proprio qualche cosa che uno vuole annusare con soddisfazione si trova a doversi costantemente spostare in base appunto alla condizione del greggio dove si trova il cibo spostarsi pensando per sé pensando per la moglie pensando per i figli che intanto erano venuti al mondo quindi di nuovo un senso di precarietà di insicurezza che va a rinforzare quello che si era possibilmente potuto instaurare e stabilire già fin dal galleggiamento lungo il Nilo lungo le acque del Nilo un senso di precarietà che a questo punto forse mi fa chiedere quanti di noi avremmo ancora potuto mantenere la nostra lucidità mentale la nostra tranquillità serenità con una storia alle spalle di questo genere e con un futuro incerto io non lo so ringrazio di non essere stata nei suoi panni ma non lo so il problema è che per il povero Mosè il bello doveva ancora venire già era lì mi immagino cercando di farsi andare bene questa situazione e quindi farsi andare bene tutte le cose che avete delincato voi anche prima la frustrazione lo scoraggiamento il disorientamento cercava tanto quanto di trovare una una quadra tanto più o meno adesso ho una moglie o dei figli questo è il mio destino questa è la mia sono arrivato al punto dove dovevo arrivare mettiamoci nei suoi panni e lì tranquillo che Pasqua la pecore e capre è un cespuglio in fiamme si mette a parlargli normale è capitato a tutti c'è spuglio in fiamme così che ci parla che ci rivolge la parola che ci dice di toglierci le scarpe normale proprio cioè questo pover uomo che tra l'altro non aveva conoscenza del Dio dei Giudei non aveva una conoscenza come avranno poi i padri i patriarchi eccetera proveniva comunque da una cultura che da una parte era giudaica dall'altra era quella degli egiziani che erano pieni di idoli pieni di dei però nessuno al mondo gli aveva mai detto che uno di questi idoli dei o cosa avrebbe potuto in forma di cespuglio infuocato rivolgergli la parola e soprattutto rivolgergli quel tipo di parola cioè vai esattamente rifai il percorso inverso e torna dal mio popolo ed io insomma sappiamo tutti che cosa gli dice che cosa gli spiega però io vedo in questo anche qualche analogia per esempio con quello che è successo a Elia che pure lui era lì che si crogiolava nel suo vittimismo a un certo punto anche lui ha ragione poveraccio perché c'era la la regina la Gezabel che non è che gli augurasse buon anno buon compleanno ma sperava di beccare l'occasione buona per farlo fuori quindi le ragioni oggettive ci sono però anche lui passa un periodo di scoraggiamento e di vittimismo in cui si autocommisera in cui decide che non vuole più vivere che non vuole più andare avanti nel servizio di Dio si siede sotto una pietra si addormenta nel deserto anche in quel caso quando Dio interviene gli dice una cosa interessante rifai tutta la strada torna al punto di partenza torna dove ti sei perso potremmo dire noi adesso torna dove hai lasciato le tue origini le tue origini umane oggettive torna là dove ti trovavi in una situazione che ti faceva paura perché l'unico modo per affrontare una paura per superare una paura è affrontarla perché penso questo che non è riportato nella Bibbia e me ne prendo la responsabilità perché immagino che Dio avrebbe potuto salvare Israele attraverso chiunque aveva bisogno di Mosè nello specifico però Dio ha attenzione in generale quindi per un popolo ma attenzione individualmente per ciascuno di noi e sapeva che Mosè aveva proprio bisogno di sperimentare tutta una serie di cose che finora la vita non gli aveva permesso di conoscere di se stesso e quindi insiste perché Mosè faccia questo questo passo torni indietro torni al punto di partenza e liberi gli ebrei dalla tirannia degli egiziani qui chiaramente viene fuori un po' come se fosse una seduta di terapia viene fuori tutta la difficoltà di Mosè tutta quell'insicurezza che lui ha accumulato durante gli anni di deserto durante gli anni precedenti tutta la sua vita fino a quel momento lui perlomeno non ci è dato di saperlo da quello che è scritto non l'aveva mai esternata condivisa con nessuno prima di tutto perché fortuna loro all'epoca non c'erano i counselor non c'erano gli psicologi non c'era tutta questa marmaglia che cercava di sapere i fatti altrui quindi non poteva ma poi culturalmente non se lo sarebbe potuto nemmeno permettere che fa un soldato del faraone si mette a dire sono in crisi perché non so chi sono sono in crisi perché mi sento insicuro non me la vedo tanto bene cioè proprio non passa non passava probabilmente neanche per l'anticamera del suo cervello perché culturalmente era una cosa assolutamente inaccettabile Gesù doganerà poi questa cosa l'anima mia oppressa da tristezza mortale ma fino o perlomeno al tempo di Mosè questo non era fattibile quindi tutta questa sua insicurezza confrontata con una richiesta pratica di fare qualche cosa vai e libera quindi cosa vuol dire vai combatti azzuffati azzanna fai quello che io ti dirò vedrai che io ti do una mano però tu mettiti in gioco e non trova in Mosè una persona che abbia strutturato interiormente delle risorse sufficienti da fargli credere che avrebbe potuto farcela e dove le vado a prendere queste risorse cosa nella vita gli avrebbe gli aveva potuto fare sperimentare sicurezza affidabilità capacità però sono un tipo in gamba dai uno l'ha cacciato l'altro l'ha rifiutato se n'è andato con un altro popolo aveva una formazione culturale professionale di un certo tipo ha dovuto reinventarsene un'altra è molto più semplice molto più umile adesso gli viene chiesto di fare una cosa che è più attinente a quello per cui era stato preparato nella vita all'inizio alla corte del faraone ma con che risorse con che fiducia in se stesso e con che fiducia in questo cespuglio che parla è un'allucinazione sono io e comunque quando poi Dio gli dimostra praticamente con la storia del bastone buttalo il serpente non è più un serpente sono tutte cose che noi leggiamo così ma provate a pensare se foste voi se fossi io butta Laura butta l'ombrello per terra e quello diventa un pitone Laura riprendilo già un attimino aspetta parliamone prendilo tu lui però lo prende pensate un po' allora sono stato talmente sconvolto che lo riprende e quello torna a essere il mio ombrello non è così automatico cioè la nostra mente per elastica che sia per capace di contenere i cambiamenti di essere resiliente e quindi di accettare le differenze tutto quello che può avvenire non è proprio predisposta a questo tipo di esperienze no? per cui Dio gli sta chiedendo di andare a riattingere a quelle risorse che erano state sì depositate ma mai esercitate e qui comincia la guarigione interiore di Mosè l'unico modo come dicevo prima che noi abbiamo di sperimentare sicurezza di sviluppare sicurezza di sviluppare appartenenza consapevolezza del nostro valore è metterci in gioco il punto è che quello che la società ci comunica non è esattamente questo messaggio la società ci invita a metterci in gioco ma per uscire vincenti sempre anche a scapito di altri la società con i suoi messaggi più o meno voluti io direi soprattutto voluti ci mette ci pone davanti degli standard molto elevati che non tutti siamo in grado di raggiungere né ha un senso raggiungerli perché una volta che abbiamo raggiunto un determinato livello subito se ne prospetta uno superiore e quindi noi rischiamo di vivere una vita costantemente alla rincorsa di un messaggio che ci confermi che noi abbiamo un valore che noi abbiamo delle capacità noi viviamo nell'ansia che ci sia qualcuno migliore di noi perché ci deruba di questa di questa conferma di questa sicurezza e a nostra volta noi chiediamo tanto a noi stessi per poter essere all'altezza delle aspettative che ci vengono presentate da qui poi attacchi di panico crisi depressiva crisi di ansia e tutte quelle belle patologie e quei bei disturbi del pensiero che rendono ricchi i nostri medici i nostri psichiatri non perché loro ne approfittano ma perché oggettivamente richiedono poi delle cure degli interventi mirati su questo però l'unico modo che noi abbiamo per acquisire sicurezza e questo lo dico sempre soprattutto ai genitori se volete dare l'opportunità ai vostri figli di crescere come persone sicure che poi non è detto che sia sufficiente però se voi volete dare questa opportunità per favore emancipatevi emancipatevi lanciateli nel mondo non così dissennatamente ma fateli fare esperienze perché l'iperprotettività genera persone insicure persone deboli perché il messaggio che passa è dai non ce la puoi fare ci pensa mamma dai questo te lo risolve papà che va benissimo quando ho quattro anni un po' meno bene quando ne ho dieci no? e così via e poi ha maggior ragione nel tempo quindi Dio usa l'unico sistema perché Dio è l'unico psicologo è il primario di psicologia di psichiatria di medicina tutto quello che volete e lui sa come funzioniamo quindi lui usa l'unico metodo che può essere efficace per Mosè vai e fai queste cose qua Mosè fa di tutto e di più si inventa cioè si inventa si scherma dietro tutta una serie di cose che gli pesano perché sono oggettive ma chi mi ascolta vero? quando ho provato a parlare con i giudei per sedare la rissa l'hanno mandato via cioè l'hanno criticato l'hanno giudicato ma vado nel nome di chi? non so chi sono non so chi è questo Dio che mi sta parlando sono disorientato quanto a origine quanto a appartenenza e poi non so parlare quindi non ho esperienze non ho come dire competenza oltretutto mi agito facilmente quindi balbetto che figura ci faccio? già così mi vedono come insomma mi prendono in giro piuttosto mi disprezzano non lo so che faccio vado là a balbettare di lasciare liberi i giudei ma nessuno mi crede quindi sono tutte cose che in qualche modo mi fanno pensare che Mosè se le portasse dentro queste consapevolezze e quindi questi aspetti veri oggettivi che costituivano uno degli aspetti della sua insicurezza e della sua frustrazione dalla sua rassegnazione che aveva fatto sì che potesse appunto ripartire con questa vita nomade come pastore lì Lio come ogni buon genitore e come ogni buon terapeuta direi insiste è vero la psicologia è una scienza laica per cui bisogna essere totalmente neutri e non forzare ok questo lo dice la scienza ma se permettete non ci ha creati Freud ci ha creati Dio che meglio di Freud sa come funzioniamo dentro e sa che a volte in un certo modo conoscendo il potenziale che c'è in un figlio in una persona in un amico in un parente in un marito in una moglie l'insistenza genera un messaggio di fiducia insisto perché so che ce la puoi fare che va in parte a lenire quando non a sostituire il messaggio di insicurezza di scoraggiamento di incertezza di timidezza di tutto quello che volete che magari ci portiamo dietro da una vita perché Gesù diceva ai suoi andate voi distribuite voi i pani i pesci guarite gli ammalati risuscitate i morti fate voi dietro questo fate voi non è che Gesù non aveva voglia quel giorno voleva andare a pescare o farsi una passeggiata a piedi nell'acqua sull'acqua anzi no lui stava semplicemente dando un'iniezione di fiducia ai suoi perché sapeva che poi avrebbero dovuto cavarsela da soli umanamente parlando con la potenza dello Spirito Santo sicuramente però la potenza dello Spirito Santo va a rinforzare quelle che sono le nostre consapevolezze Dio non fa giochetti e magie certo che ci può trasformare il carattere da persona insicura a supereroe tempo zero non ha problemi ma Dio ci rispetta troppo per farlo Dio va a prendere quello che c'è dentro di noi e lo potenzia nel bene quindi era fondamentale per Mosè sperimentare le sue capacità i suoi talenti Mosè restio fino al limite perché non riuscirà a far arrabbiare Dio però riceve al tempo stesso da Dio questo messaggio di fiducia puoi farcela io sono con te io ci sono anzi ti affianco pure tuo fratello Aronne che cosa ci insegna questo quando noi incoraggiamo le persone quando noi aiutiamo le persone a venire fuori dalle loro paure dalle loro insicurezze o comunque a gestirle e ad affrontarle non bastano le parole di incoraggiamento di stimolo dai vai ce la puoi fare sei forte sei intelligente hai studiato andrà benissimo io ti affianco io sono con te questo è un insegnamento anche per noi chiudendo poi la parentesi su queste divagazioni è un insegnamento però che ci aiuta a capire com'è il sostegno di com'è la terapia di Dio non è fatta soltanto di parole o di promesse è fatta anche dell'oggettiva sua presenza accanto a noi sempre tutti i giorni che la sentiamo che non la sentiamo emotivamente però il nostro spirito lo sa le mie pecore conoscono la mia voce io le chiamo per nome loro mi seguono lo sa il nostro spirito che il maestro ci chiamano lo sa anche Mosè perché a un certo punto tirato per le orecchie tirato per i capelli per la barba non lo so cosa ha fatto Dio però si convince ad andare non è che avesse tante alternative lo so però vedete come delle volte quando un'insistenza viene fatta con la giusta motivazione e non perché qui comando io e si fa modo mio ma perché io so quanto tu vali e tu non lo vedi ancora questa è sempre la tecnica di Dio la stessa tecnica che ha usato con Abramo io lo so che tu mi sei fedele ma tu non lo sai sacrificami tuo figlio no questa tecnica di conoscere lui e conoscere noi stessi per esperienza Mosè parte con questa con questa cosa nel cuore con questo timore ma al tempo stesso speranza certa di avere Dio sempre accanto a lui fa questo passo a questo punto mi piacerebbe sapere da voi qual è come lo possiamo definire questo passo cioè secondo voi a parte appunto l'insistenza l'incalzare di Dio però io quando mi fisso su una cosa vabbè se Dio è Dio quindi nessuno riesce poi a resisterli ok però rimanendo nell'umano rimanendo nel terreno che cosa a un certo punto ci fa cambiare idea dietro l'insistenza di un'altra persona se io ho paura di fare una cosa e una persona che conosco insiste perché la faccia e io con quella persona ho un rapporto la conosco o comunque una persona che si pone in una maniera rassicurante dentro certi termini che cosa scatta dentro di me è la fiducia cerca di rimettere fiducia aspettate che non vi vedo dove siete chi è che parla io Anna sì è la fiducia che nutro in quella persona l'autorità anche quell'autorità non intesa nel senso dittatoriale ma quella proprio quella quella presenza la persona nella quale io ho fiducia punto perché crede in me sento che crede in me e quindi questa fiducia che cosa mi fa fare mi fa fare mi fa sperimentare quello che io non so mi fa osare ecco questo mi piace già di più no mi fa osare sì sì perché con Dio comunque bisogna osare bisogna osare sì noi lo diciamo hai ragione Anna ti firmo un foglio bianco giusto cento per cento però noi abbiamo un'esperienza diversa di conoscenza di noi stessi e la storia nostra per mia fortuna non è la storia di Mosè la storia mia no siamo una persona che è disgregata dentro sì che non ha un io integro ha un io disgregato costruito da tasselli profondamente diversi gli uni dagli altri e a un certo punto si sente dire da un Dio sconosciuto io sarò con te tu vai è libera prendi il bastone diventa un serpente mettiti la mano diventa lebrosa diciamo questa è la storia di tutti noi perché quando ci siamo convertiti il Signore ha preso delle persone veramente da una fossa perché siamo tutti un po' distrutti tutti un po' da questa società competitiva dei genitori che comunque ti usano anche perché vedo tanti genitori che esibiscono i propri figli per quello che valgono quindi abbiamo l'idea proprio che valiamo per quello che riusciamo a fare e con piacere e quando una voce è diversa e tu senti che è diversa e ti vuole cambiare ma ti accetta così come sei caspita che si osa perché c'è l'amore in quello cioè si avverte è come andare una persona che sta indietro e dice buttati all'indietro ci sono io nella conversione è accaduto un pochino questo vero ma non basta altre idee no sicuramente questo è fondamentale certo se non percepisco amore con cui una persona mi incoraggia a fare un cambiamento non lo farò mai quindi questo è assolutamente vero credo che contribuisca ad avere maggiore stima di me stesso perché nel momento in cui mi mostri o perlomeno mi dici di di fare una determinata cosa che io non mi sento in grado ma tu mi dici no perché tu riesci a farlo questo dovrebbe creare maggiore stima in me stesso in me stessa per poter osare per poter agire e fare è vero è una possibilità a condizione che la mia esperienza regressa non sia stata totalmente devastante perché allora farò fatica a crederti farò fatica se le esperienze che io ho accumulato nella vita sono state tutte fallimentari fino a questo giorno e poi arrivi tu e mi dici dai Laura che ce la fai io ti voglio tanto bene Rita però aspetta un attimo che garanzie mi dai no però al tempo stesso credo che nella persona si accenda si riaccenda un qualche cosa che era soppito ma mai spento che è la speranza la speranza più noi siamo rigettati siamo disprezzati siamo giudicati o comunque noi stessi ci giudichiamo negativamente più rimane dentro di noi una sorta di nostalgia spiritualmente parlando di un tempo in cui tutte queste cose non le sperimentavamo no un po' come Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden che si sentivano pienamente gratificati in tutte le loro esigenze non soltanto quelle materiali ma anche per quanto riguardava appunto l'accettazione l'accoglienza la stima Dio parlava con loro gli aveva affidato tutto gli aveva affidato l'incarico di gestire tutto loro di dare loro un nome a tutto quello che aveva creato quindi massimo input di fiducia no quindi è come se noi atavicamente da un punto di vista spirituale avessimo questa nostalgia di questa esperienza di accettazione totale di fiducia di stima di apprezzamento che è la molla necessaria fondamentale per fare quello che correttamente Anna ha detto e che hai detto anche tu Rita cioè il cambiamento Anna ha detto giustamente ma anche noi in un certo senso quando eravamo non credenti eravamo immersi nei nostri guai non che adesso non ne abbiamo per carità ma perlomeno li condividiamo con Gesù lui vorrebbe anche portarli tutti lui ma noi tendenzialmente siamo generose ce li portiamo parte ci dispiace appesantirlo troppo quindi ci complichiamo la vita poi andiamo a pregare lui dice ma Laura vedi un po' un attimo comunque quello è un altro discorso quindi vero quello che diceva Anna noi avevamo tutti i nostri guai tutte le nostre difficoltà e non avevamo la capacità di venirne fuori o meglio tante volte per risolverne una ne combinavamo un'altra o ne subivamo un'altra quando arriva Gesù quando ci parlano di Gesù ancora prima che Gesù entri nel nostro cuore ma quando ci viene prospettata una speranza non tanto di risolvere i nostri problemi ma di sentirci noi importanti e significativi per qualcuno di grande allora questa speranza riprende vita ed è su quella speranza che la scintilla dello Spirito Santo opera per portarci a Gesù rivelarci Gesù e portare avanti poi il nostro cammino per quanto noi glielo permettiamo quindi Mosè in qualche modo cosa riceve da Dio? Che cosa ci dà Dio? Speranza Chi è che ha parlato? Tornella Sì che cosa ci Speranza? Speranza Ok come in che modo ci comunica Speranza Dio? Allora per tutto quello che è che è già il passato che sia di Mosè o di qualunque persona andiamo avanti molto pericolanti secondo me nel senso che non abbiamo ancora acquisito una vera e propria fiducia perché lo dicevi tu ti sento molto male non so se voi la sentite bene forse perché sono lontana dal microfono ecco adesso sento meglio sì perché come dicevi tu sì è facile dire sì va bene ti do fiducia per cui fai questa cosa ma se una persona a seconda appunto di quello che ha passato del suo trascorso anche della della sua parte caratteriale è molto titubante perché è timida perché è paurosa di tutto eccetera ecco diciamo che quel passo magari con insistenza no che viene che viene continuamente sollecitato eccetera dice va bene diciamo ci provo ecco quindi pericolante ci provo vediamo come va avanti è da quel momento che poi forse si può riacquistare un qualche cosa che che forse non si aveva nemmeno prima o si era perso completamente ecco questo è un pochino è vero è una bella considerazione anche questa no l'insistenza tante volte anche preso per spinimento diciamo proviamoci vediamo perché se insiste tanto hai visto mai che abbia visto qualcosa in me che io non trovo sì e se fosse stata diciamo spesso si sente parlare della forza della disperazione cioè in quelle situazioni uno riesce a trovare la forza per risorgere si guarda dietro e dice mamma mia che disastro peggio di così non può andare proviamo vero c'è anche quello uno può anche fare quel ragionamento lì però io volevo focalizzare l'attenzione prima su tutte queste cose corrette e giuste però qual è l'elemento che origina da Dio e che determina tutte queste cose c'è un po' l'anello mancante no c'è un qualche cosa che origina da Dio e che dovrebbe originare anche da tutti noi quando vogliamo incoraggiare le altre persone e che determina tutti questi ragionamenti queste queste cose che poi voi avete elencato l'amore l'amore è la cosa più banale del mondo l'amore incondizionato l'amore incondizionato è l'amore che ci convince che possiamo sperare e il fatto di sentirci guardati ancora prima che di sentirci delle parole ma sentirci davvero guardati accolti senza pregiudizio veramente senza aspettativa anche cioè senza che io ti chieda niente in cambio non è che ti sto trattando bene perché così ne avrò un vantaggio questo dice la società e questo io ho nella mente no però tu che non che secondo me che non ti conosco boh non sapevi niente di me perché vabbè sarei Dio ma io non so neanche cos'è Dio in questo momento so che sei un cespuglio che parla e quindi tu però mi stai accogliendo non mi stai accusando non mi stai giudicando e anche alla fine quando c'è scritto si accede l'ira di Dio si accede si accede non contro Mosè ma contro la paura di Mosè non contro la persona tante volte in buona fede noi per aiutare le persone delle volte ma che fifone che sei tanto per dire e così releghiamo di nuovo la persona in una situazione in una condizione dove ci sta male già si trova lì e vorrebbe uscirne il fatto di non sentire giudizio e di sentire accoglienza accende la speranza ma può essere anche avere un discorso di sapere di essere accettati così come si è fatto questo ti accetto senza condizione senza niente ok Mosè lo so che mi stai facendo un sacco di storie ti sto dicendo un sacco di cose ma ogni tua obiezione io controbatto rassicurandoti dandoti delle dimostrazioni però non ti accuso non ti dico sei un testone sei uno zuccone sei un fifone sei un qualunque altra cosa cerco di spostare la tua attenzione il tuo sguardo da quello che non hai a quello che puoi avere con me io ti darò questo no? è quello che noi non facciamo è quello che noi non facciamo normalmente con le persone che abbiamo di fronte è quello che dobbiamo e vogliamo e possiamo imparare a fare se vogliamo essere degli aiuti efficaci no? perché come cristiani noi partiamo avvantaggiati noi partiamo da tutta una serie di cose cose materiali ma soprattutto spirituali e morali che abbiamo e noi focalizziamo come tutti gli esseri umani anche se siamo cristiani focalizziamo l'attenzione su quello che ci manca eh ma però io non so parlare io non so insegnare io non so non sono bravo in matematica io non so cantare non posso non ci riuscirò mai allora l'intervento di Dio l'intervento terapeutico di Dio per Mosè è quello di spostare l'attenzione da quello che lui non ha a quello che lui può avere per grazia e potenza di Dio questo fa il Signore questo fa anche con noi e questo appunto è quello che dovremmo fare anche noi con gli altri perché da una parte è una battaglia spirituale perché da una parte c'è Dio con il suo messaggio onnipotente tu puoi con me ce la fai non tu Laura tu Laura come come scritto in Isaia vermiciattola no Giacobbe vermiciattolo io vermiciattola cioè tu no ma tu con me puoi tu alleandoti con il più forte puoi perché la mia potenza è perfetta nella tua debolezza no e dall'altra c'è quell'altro che dici no ma lascia perdere ma figurati ma no ma ti ricordi da dove vieni ma sai cosa ti hanno detto ma sai che se ti riconoscono ti uccidono ma gli ebrei non ti vogliono ma lascia stare ti sei fatto una posizione qua con le capre hai imparato a fare i formaggi stai qua vai a vendere i formaggi un banco nel deserto no quindi c'è questa roba qua quindi cosa fa la differenza nella mente di una persona che per esempio ancora non ha esperienza di Dio a parità di messaggio non è che uno è prevalente all'altro perché tutto sommato tutti e due dicono qualcosa di vero quello che fa la differenza è come mi vengono dette le cose l'amore si percepisce arriva attraverso lo spirito non è soltanto il sentimento quindi le coccole le emozioni le belle parole che ci guariscono questo è un contorno è un di più è un qualche cosa che è sicuramente piacevole è gradevole e tutto ma non è quello l'amore è riuscire a comunicare all'altra persona quello che l'altra persona è mentre lei non riesce ancora a vederlo detto più semplicemente vedere l'altro con gli occhi di Dio ecco perché vi dicevo non credo nella psicologia laica perché con tutte le buone intenzioni non ha lo sguardo di Dio ma lo sguardo di persone estremamente intelligenti e colte molto più di me questo fuori di dubbio ma non ha lo sguardo che ognuno di noi può avere quindi non solo uno psicologo cristiano ognuno di noi può avere perché in ognuno di noi vive lo stesso Gesù lo stesso Gesù è quello che fa la differenza persino le guardie rimangono nessuno ha mai parlato come quest'uomo con quell'accettazione con quella capacità di tirare fuori il meglio dall'altro di portare speranza che sicuramente non aveva l'esercito romano o non avevano i giudei gli ebrei è quello che basta ed è quell'amore che riaccende in ciascuno di noi come in Mosè la speranza di poter fare quello che diceva prima la sorellina che non so come si chiama perché io leggo Gualtiero e non credo che tu ti chiami Gualtiero Ornella 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 ok ecco come diceva prima la sorellina Ornella quello che poi fa scattare la speranza la speranza a sua volta fa scattare l'elemento indispensabile per fare quello che Dio chiede a Mosè di fare perché ancora la speranza potrebbe farmi dire eh sì allora forse è vero chissà ma potrebbe aver ragione e quindi qual è il passaggio successivo? la decisione scusa? la decisione la decisione l'azione la decisione io decido di credere io decido di fidarmi sono attratta da questa persona che mi sta incoraggiando che mi sta guardando con amore che mi sta mettendo in evidenza i miei lati il mio potenziale le mie capacità e che mi distoglie dal guardare invece quello che mi manca sono già attratta desidero questo desidero il bene mi fa del bene questo ma non basta perché anzi questo potrebbe indurmi a diventare dipendente dagli apprezzamenti altrui dall'incoraggiamento altrui quindi anziché fare un passo verso la guarigione diventare una mendicante della rassicurazione quindi dopo che io ho ricevuto questo messaggio c'è una parte che dipende soltanto da me e quella parte è la decisione e questo è quello che evidentemente per come sono andate le cose ha fatto Mosè ha deciso di fidarsi di questo cespuglio parlante che diceva di essere Dio al quale chiede anche le credenziali sì vabbè dico che mi ha mandato Dio ma Dio chi? no? perché non è che fosse così evidente così chiaro però decide di fidarsi la guarigione interiore inizia quando noi decidiamo di fidarci di quello che Dio dice e per prenderci una pausa un attimino così io chiederei ad Alessandro di mettere il canto che io ho condiviso prima e che ho ascoltato per la prima volta Darina in Israele quando faceva la lode qualche anno fa ma che comunque credo sia molto opportuno a questo punto ascoltare sì anche il museo pensavo è il suo amore è il suo amore che indui libera libero sarà sono un figlio suo sì così libertà ora ho per che mi ristrattò vivevo in schiavi ma Gesù mori sì per me mori chi lui libera libero sarà sono un figlio suo sì così è nella casa su nel me posto c'è sono sviglio su sì così sono scelto te tranquillo che te amici di me mi sostiene credo a quello che Dio dice di me sono scelto credo a quello che Dio dice di me mi sostiene credo a quello che Dio dice di me che Dio dice di me chi libera libero sarà sono figlio suo sì è così nella causa sua nel me posto c'è sono figlio su sì così nella casa su per me posto c'è sono figlio su sì così grazie grazie Ale grazie grazie Laura 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 anch'io io ho pensato a questa canzone dove sei se non ti vedo eccoti vero Anna che rappresenta rappresenta bene tutto quello che abbiamo detto finora ogni tanto mi succede davanti a questo cespuglio parlante in fiamme noi abbiamo un uomo che ha sperimentato io direi una buona parte delle cose che forse anche alcuni di noi hanno vissuto o comunque che persone che noi conosciamo vivono e stanno affrontando e quindi ci ricordiamo l'insicurezza iniziale la consapevolezza la presa di atto immediata e violenta che i punti di riferimento possono venire meno in qualunque momento che le cose che ci fanno stare bene le coccole di mamma la tenerezza di mamma possono esserci tolti in un attimo e noi ci troviamo sballottati nelle onde sappiamo quanto per un neonato sia spaventoso no il pensiero la paura di cadere è una delle paure principali di un neonato e quindi ci troviamo sballottati senza equilibrio senza solidità ci troviamo poi in un ambiente diverso da quello nel quale siamo stati svezzati e cresciuti quindi con altre abitudini che vanno a complicare la nostra identità perché non sappiamo più se identificarci con quello che abbiamo avuto all'inizio o con quello che abbiamo appreso dopo quando cerchiamo di dare una definizione a tutto questo quindi di trovarci o da una parte o dall'altra veniamo rigettati da tutte e due le parti e il rifiuto il senso di non appartenenza il senso di non avere una storia alle spalle devasta la psiche di una persona disintegra l'io di una persona e le toglie la possibilità di strutturare una progettualità di fare progetti per il futuro di immaginarsi un qualche cosa perché se non so da dove vengo se non so chi sono se non so chi mi vuole che cosa progetto l'unica alternativa è scappo allora come Mosè è scappato fisicamente nel deserto le persone scappano nella depressione scappano nella follia scappano nelle dipendenze scappano comportamenti sbagliati non biblici scappano per non sentire per non sentirsi perseguitati inseguiti da tutto questo dolore illudendosi di trovare un compromesso i madianiti ancora un altro popolo ancora altre abitudini ancora un declassamento da aiutante del faraone a pastore di pecore capre ma me la faccio andare bene anche così pur di avere un significato pur di avere un senso un qualche cosa che mi definisca no? e no anche lì arriva uno parlante e mi dice torna indietro ritorna a riguardare ripercorri le tue paure chiamandole per nome l'unico modo per per vincere le cose quello che la tecnica che Dio aveva dato fin dall'inizio quando diceva ad Adamo di dare un nome a tutti gli animali l'unico modo per dominare una cosa è definirla perché finché la paura è indefinita finché siamo preoccupati di qualcosa che potrebbe succedere ma non sappiamo tanto bene che cosa sia è un fantasma che ci perseguita che non sappiamo quanto sia grande però nella nostra immaginazione con le esperienze che progressivamente facciamo diventa sempre più grande e ci spaventa sempre di più nel momento in cui lo definisci lo chiami per nome lo vedi per quello che è e valuti se tu hai le risorse o meno per affrontarlo se non le hai dice Dio ci sono io qual è il problema io ti farò fare dei segni dei prodigi delle cose tu avrai questo bastone questo bastone è la mia autorità rappresenta ovviamente Gesù ma questo non ci interessa il lato dottrinale il lato teologico dell'insegnamento però rappresenta anche l'autorità delegata che Dio dà a chi si fida di lui e a chi però accetta di sottomettersi a lui non è che Dio mi dà il bastone e poi lo prendo io lo uso per bastonare la roccia quando mi viene voglia di farlo perché poi ci sono delle conseguenze io lo uso per seguire le istruzioni che Dio mi ha dato quindi per aprire il mare eventualmente Dio ci fa ripercorrere tutta la storia della nostra vita ma con lui per ritrovare tutto quello che noi pensiamo di non avere mai avuto fidandosi di Dio decidendo di accettare questa sfida questo percorso Mosè scopre un'appartenenza a Dio prima di tutto e al popolo di Israele finalmente chiaro perché vai a liberare il tuo popolo il mio popolo dice Dio però vai a liberare il popolo da cui sei provenuto da cui provieni tu quindi non è più un orfano errante che non ha uno scopo che non ha un significato è una persona che ha un obiettivo davanti non è più il pastore di pecore senza uno scopo nella vita è l'unto di Dio il chiamato da Dio per risolvere una questione in collaborazione con Dio come strumento nelle sue mani alla faccia della guarigione interiore non mi dite che poi abbiamo ancora bisogno di consulenze abbiamo ancora bisogno io mi sto dando la zappa sui piedi rimarrò disoccupata però è quello che credo in un certo senso e il mio lavoro ha senso soltanto nel termine fino al punto in cui io aiuto le persone a riagganciarsi con Gesù o a agganciarsi se ancora non lo hanno incontrato o a riagganciarsi se lo hanno un po' messo in disparte perché poi in effetti non sono i colloqui non sono le terapie che possono in qualche modo darmi una sicurezza un valore perché magari me lo danno per un qualche cosa ma non per un'altra quindi quando poi mi viene fuori un problema di altro tipo io di nuovo andrò in crisi soltanto Dio mi può rivelare chi sono veramente Mosè cosa scopre a questo punto che non è uno straniero perché è figlio di un popolo è figlio di Dio quindi non è più uno straniero che pellegrina che non sa da che parte andare che non è declassato quindi tutta la sua frustrazione guardate cosa mi tocca fare adesso sono diventato pastore così no caspita tutta l'esperienza che hai fatto prima quindi tutto tutto quello che nella vita ti è toccato di sperimentare di vivere nelle mani di Dio diventa uno strumento di potenza non uno strumento che gira il coltello nella piaga perché è vero mi ricordo che potevo fare questo ma non ho potuto e quindi sono stato sfortunato mi è andata male esattamente contrario lui che era stato allevato come soldato alla corte del faraone che poi per un lungo periodo sicuramente ha pensato bella roba che cosa fado avessi imparato prima come si tosa una pecora magari adesso facevo meno fatica no invece se le ritrova tutte quelle esperienze perché perché Dio ci rispetta a tal punto che non disprezza nessuna delle esperienze che noi facciamo nella vita non banalizza niente di quello che noi possiamo avere sperimentato nella nostra storia anche se magari noi nel nostro modo di vedere di valutare le cose le reputiamo momenti o situazioni dolorose difficili deludenti eccetera almeno se decidiamo di fidarci di Dio e di camminare nella strada che Lui ha già spianato per noi noi ritroveremo tutta la nostra storia perché Lui ce l'ha fa ripercorrere ma ce l'ha fa ripercorrere scoprendo che tutto quello che era stato soltanto seminato lì e magari neanche neanche tanto annaffiato e trascurato in realtà Lui lo ha fatto germogliare e noi ci ritroviamo una ricchezza interiore che non viene dalla nostra formazione di studi di cultura di ceto di qualcosa ma viene dalla potenza dello Spirito Santo in noi Cristo in noi speranza di gloria e questa è la bellezza della storia di Mosè ed è per questo che ho voluto questo titolo Impariamo da Mosè cioè impariamo a decidere di fidarci di Dio se come dicevo prima ci fidiamo di un filosofo di un professore di un non lo so terapeuta che ha studiato e che ha tante competenze tecniche sicuramente ma non non è nella nostra anima e però noi seguiamo i suoi consigli le sue istruzioni e facciamo quello che ci viene detto di fare perché non facciamo quello che Dio ci dice di fare perché non crediamo di essere quello che Dio ci dice che noi siamo visto che Lui ci ha creati e Lui ci vede per quelli che siamo tanto non è che Lui ci esalti e che rischiamo di inorgogliere ma neanche ci sminuisce ci permette di acquisire di noi stessi una consapevole un concetto sobrio che è quello vincente che ci dà la libertà di dire sì ma non sono io che sto facendo queste cose io non sono capace Dio è capace ma non è che mi pesa il fatto di ammettere che non sono capace non ho più bisogno di confrontarmi con gli altri perché sono migliore peggiore più brava più sveglia più tutto perché sono unica Dio mi fa sperimentare l'unicità e questo mi fa fare pace con il mio bisogno di appunto avere un valore avere un significato eccetera quindi impariamo da Mosè a fidarci di quello che Dio dice di noi credo in quello che tu dici di me perché sono scelta tu mi hai scelto io ogni tanto gli dico contento a te signore boh è vero che è un buon senso dell'umorismo perché sei ebreo però insomma secondo me potremmo fare un'altra scelta però se tu dici così come diceva Pietro il pescatore sono io tu sei un falegname però se mi dici di buttare le reti lo faccio e a pescarsi facciamo così anche noi